Ci scusiamo, ci scusiamo, immagino che ormai i bambini saranno tutti a letto. Noi adesso sistemeremo la parte attoriale di questo spettacolo. Ah, sogno! Ora sistemiamo, guarda. Vi ho portato Gianni Lattori! Sì, io! Davo Gianni! Davo Gianni che attassai! Queste ragazze sono pazze di te! Ora impoppettiamo! Ai Gianni vai! Mi domando! Vabbè! Come Gianni che attassai! Cioè praticamente nella tua testa tu sei un latillover! No, sono Gianni! Non lo sa? Oh, chi si bloccò? Ti giuro, a me la conosco da tanto tempo, ma resto sempre attonito. E io resto sempre Gianni! Ognuno lo so! Ognuno lo so! Davo Gianni che attassai! Bravo Gianni! Si figuri che questo qua ultimamente ha fatto 50 sfumature di rosso! E poi? E poi mi è rinascita la cammisa! Mi è finito tutta tutta! Fu una scelpetta! E poi? Eh eh! Convemi io la stessa voce! No, no, no! Io cevo un problema assato! Io cevo un problema assato! Usaci! Senta, lei non è un attore! Attore sono, Dio, Dio! Sì, sì, è rimasto fuori dal film Non aprite quella porta! Ma mai? Mi scuite mi chiamate a casa! Capita! Cosa che capita! Lei si definirà attore quando farà un film nella sua vita? No, no, forse non ha capito! Certo che ha fatto un film! Ha fatto la continuazione del film Mary per sempre! E come è stata? Gianni per sempre! No! Per favore! Gianni per sempre! Questo film è al cinema? Sì, al cinema! Come funziona questo film? Quanto dura intanto? Tre ore e mezza! E che cosa... Come si sviluppa la scena? Ci sono tanti Gianni! Sì? Cosa fanno tutte queste persone? C'è uno che dice Io sono Gianni! Ok, l'altro... La c'è risponde Pure io sono Gianni! Che coincidenza! Tre ore e mezzo così... Tutto così, tutto così... Ma vabbè... Un filmone, signor Bajanga! Le consiglio di andarlo a vedere! Non ho parole, non ho parole! E le dirò di più! Le fan, ci scrivono le fan? Le fan di Gianni che scrivono a Gianni per Gianni! Strano! O meno che lo sapo allora! Sono signor! Se vuole leggerlo! Ciao! Ciao! Sto leggendo la lettera! Sono sbagliato io! Posso sbagliare? Posso sbagliare? Ho capitato! Tu mi piaci tanto e vorrei sentirti, ti lascio il mio numero... Guarda, chiamiamo questo numero! Chiamiamo il numero, la signorina! Stavo chiamando... Il numero è? 899 11 35 44 Ok, la metti in viva voce così, le faccio vedere! Pronto? Eccola qua, guarda! Pronto? Pronto? Sono Eva! Io sono Gianni! Dai, non cominciare! Amone Gianni, non faremo la figura! Allora, falla parlare, falla parlare! Che ci dico? Falla parlare! Parla, parla! Ah! Ah! C'ha l'asma! No! Sì! Desperata! Ehi, mi fai, mi fai! Aspetta! Le chiedo qualcosa, domandico qualcosa, sai? Che stai facendo? Bravo! Mi piace! Ci piace? Mi piace! Mi piace! E nel Facebook! No! Aspetta, mi piace! Non capisco! La fotografia mia mi piace! Non mette, mi piace! Non mette! Che posso fare? Chiedile di uscire, dai! Vuoi uscire con me? Sì! Sì, ha detto sì! Dove la porto? In pizzeria! Andiamo in pizzeria! Di più! Al ristorante 5 Stelle! Al ristorante 5 Stelle! Di più! Di più! Salendo da casa, io ci sono 80 decine euro! Bravo, Gianni! Ave ragione, ave! E me la può spendere tutti i sei piccioli! Grazie! Così si trattano le donne, non più menti! Oh sì! E stasera che fa però? Un poppetto da solo! Può capitare! Ce lo dimostra di essere un attore! Non c'è problema! Lo mettiamo alla prova! Proviamo! Colossal! Ha presente Forrest Gump! Eh sì! Ok, lei arriva da dietro, state facendo una gara e lei gli dice, Forrest, corri Forrest, corri! Ok, vai! Va bene, lascia quella... Musica, vai! Digalo! Chi sono nuovi i cioccolati? N'ha avuto un rone! Corri, Forrest! Corri! Corri! Va bene, però corre molto per cui noto! Bravo, Gianni! Bravo! Bravo! Ciao!